Nell'avanzare verso la zona bianca le marche continuano a registrare una frenata di contagi da coronavirus e un calo dei ricoveri negli ospedali della regione. Il virus dunque allenta la morsa anche grazie ai vaccini che sfiorano il milione di somministrazioni. In base ai dati pubblicati questa mattina, complessivamente sono oltre 970.000. Le persone che hanno ricevuto la prima dose sono più di 660.000 e di queste quasi la metà ha già fatto il richiamo. Una buona risposta c'è stata anche per i maturandi che per 5 giorni hanno potuto recarsi nei punti vaccinali senza prenotazione. In totale sono stati 8.000 su 13.600 aventi diritto. Ieri invece sono iniziate le inoculazioni per i giovanissimi, 14-15 anni che si sono presentati negli hub accompagnati dai genitori. Infatti sono state aperte sabato scorso le prenotazioni per la fascia 12-39 anni. Intanto l'andamento della pandemia in Italia permette da oggi di ridurre il coprifuoco di un'ora passando dalle 23 alla mezzanotte. L'abolizione invece è prevista per il prossimo 21 giugno. Sì, un altro passo in avanti, si torna sempre di più verso la normalità. Questo è un buon segnale sia perché la gente, abbiamo visto, che ha voglia di uscire e quindi si sta iniziando a muovere sempre di più. Per il settore della ristorazione sicuramente il poter allungare di un'ora in più dà la possibilità di effettuare anche il secondo turno, quindi cercare di soperire al discorso del distanziamento sociale, quindi meno posti, comunque c'è la possibilità di fare il doppio turno e allora a questo punto torniamo quasi ad una normalità. Il provvedimento, prosegue il vicepresidente di Confeser Centifano, Stefano Mirisola, va a beneficio anche delle attività economiche. Sicuramente questo è un buon segnale, visto che si inizia anche l'estate, le aperture serali, molti imprenditori stanno rimodulando un pochino gli orari per riuscire a dare servizio anche dopo cena, quindi per chi torna dal mare e diciamo che l'entusiasmo è tanto, la voglia di tornare alla normalità c'è sia da parte dei clienti ma anche degli imprenditori, ci auguriamo che sia un'estate piena di lavoro per cercare di recuperare questo periodo di difficoltà che abbiamo affrontato.